Ciao carissimi, di recente la Financial Times, la testata importante britannica, ha fatto una dichiarazione molto interessante, ha condiviso una serie di articoli, non si è trattato di un solo articolo, ma sono stati tre articoli in tutto, poi ci sono stati diversi tweet dei giornalisti, insomma hanno sollevato, sollecitato questo tema, hanno parlato delle agenzie private militari russe, diciamo alternative a quella già conosciuta, che noi conosciamo tutti, che si chiama Wagner, della quale io ho già parlato a voi. Noi sappiamo che nelle guerre moderne, quelle che di solito vengono chiamate addirittura proxy war, cioè la guerra per procura, quando un paese ricco, importante, vuole affrontare un altro paese ricco, importante, per evitare in qualche modo lo scontro diretto, o perché è complicato geograficamente, perché magari i due paesi non hanno le linee di confini, o perché non vogliono entrare in una vera e propria guerra aperta, loro organizzano gli scontri dei loro poteri militari sul territorio dei terzi paesi. Questa è una cosa abbastanza vecchia come sistema, è stata usata anche nella storia diverse volte da diversi imperi, da diversi grandi poteri, comunque oggi viene utilizzata soprattutto nella fase di risoluzione di vari problemi legati alla divisione delle aree commerciali, alla divisione del potere nel mondo. I grandi giganti cercano in questa maniera di mostrare i propri rivali che loro sono più forti, che hanno diritto loro di fare certe cose, anche per piazzare le proprie compagnie private, in effetti se noi guardiamo ciò che sta accadendo tra gli Stati Uniti d'America e Ucraina, vediamo che gli unici a trarne il vantaggio sono grande compagnie private come ad esempio BlackRock e tutti i simili, senza parlare ovviamente delle compagnie che si occupano di produzione delle armi, che in questa terribile carnificina hanno aumentato in maniera esponenziale i propri guadagni. Quando succede un proxy war vengono impegnati non solo i parti dell'esercito regolare, ma soprattutto vengono impegnati le compagnie private. Noi abbiamo visto gli Stati Uniti d'America utilizzare ampiamente i suoi mercenari ovunque, in tutti i paesi del mondo, a partire da Iraq, Libia, finire con Afghanistan, Siria, sono stati in Africa, sono stati ovunque. Lo stesso ovviamente fa anche la Russia in maniera molto più, come dire, ristretta, hanno iniziato a utilizzare pochi uomini in poche situazioni, comunque con gli anni invece questa realtà è cresciuta, i russi utilizzano sempre di più le compagnie private e di recente, come dice Financial Times, prendendo spunto da uno dei video che ha condiviso tempo fa Evgeny Prigozhin, il capo della Wagner, in questo video Prigozhin ha fatto accenno all'esistenza di altri gruppi privati, militari, simili alla sua organizzazione, però ovviamente molto più piccoli di dimensione, perché cari amici la Wagner è un'organizzazione mastodontica, cioè un'organizzazione enorme. Perché Wagner ha questa possibilità di crescere in Russia? Vi ho già spiegato in passato, la Wagner in grande linea rappresenta gli interessi dei servizi segreti militari della Federazione russa. Loro sono come una branchia, diciamo, illegale dei servizi segreti militari. Quindi dove i servizi segreti militari russi hanno interesse di essere presenti in qualche parte del mondo e non possono essere presenti per qualche motivo, loro sfruttano questa agenzia e con questa agenzia riescono ad ottenere dei vantaggi che non avrebbero riuscito a ottenere mandando i militari ufficialmente. In alcuni posti non si può proprio mandare militari ufficialmente, senza avere accordi specifici. Meglio mandare i mercenari. Per questo la Wagner è così grande e così importante, però oltre alla Wagner ci sono altre compagnie. Prigosen ha parlato di alcune compagnie che sono presenti nella guerra in Ucraina. In pratica lui ha criticato queste compagnie. Il senso del discorso di Prigosen è mettere come dire la preoccupazione nelle persone per il fatto che la sua compagnia Wagner ha questi tra virgolette antagonisti, rivali, perché ovviamente sono rivali, perché nel mondo di affari legati alla guerra queste compagnie si trovano su un mercato e loro sono concorrenti. Quindi dove c'è la concorrenza non può essere collaborazione, c'è la rivalità. Prigosen ovviamente vuole essere monopolista di queste strutture in Russia per la Russia e a lui dà fastidio quando ci sono simili organizzazioni che lavorano così come lavora l'organizzazione sua, che riescono a ottenere i contratti, che svolgono varie missioni in giro per il mondo e in particolare in Ucraina. Quindi lui sicuramente è di parte quando lui fa discorsi, quando lui parla di questa realtà, lui non può dire niente di bello degli altri, lui parla male di loro, mette in cattiva luce, ma sottolineo non per cattiveria, qua è puro business, lui vuole proteggere i suoi uomini, lui vuole proteggere i suoi interessi, vuole guadagnare la fiducia di Putin e del potere governativo russo e tenere lontano tutti gli altri da questo bacino del potere che lui si è guadagnato. Cosa sono le compagnie dei quali si preoccupa Prigosen e perché queste compagnie sono così importanti da suscitare la sua preoccupazione. Si tratta, cari amici, di compagnie militari privati, anche se non così numerosi come la Wagner. Quando parliamo della Wagner, oggi la Wagner conta circa 100-150 mila operatori in tutto il mondo. Qualcuno dice che in realtà questa cifra viene abbassata appositamente, qualcuno dice che in realtà sono di più, sono circa 200 mila. Comunque, secondo i numeri ufficialmente divulgati, si tratta di circa 100 mila operatori. Poi, a parte questi 100 mila operatori che hanno contratti con la compagnia Wagner, ci sono altri circa 50 mila di funzionari fissi della Wagner che non fanno i contratti, che sono persone assunte a tempo indeterminato. Qua bisogna dire che la struttura di assunzione è diversa perché un mercenario tipico quando arriva nella Wagner gli viene fatto un contratto e lui diventa un soggetto contrattuale, cioè lui lavora per la compagnia, svolge gli interessi della compagnia, ha un regolamento da seguire, però in ogni momento, se lui fa qualcosa che va contro l'accordo, contro il contratto, il contratto viene interrotto, lui rimane in difficoltà. Mentre 50 mila persone sono assunte a tempo indeterminato, sono a tutti gli effetti funzionari, stabili di questa compagnia. Ovviamente si tratta in gran parte dei casi delle persone, dei funzionari sui quali si regge la struttura della compagnia, però molti di loro comunque sono persone che lavorano stipendiati con contratti a tempo indeterminato, quindi assunti a tempo indeterminato anche in guerra. Hanno le assicurazioni speciali, hanno tutto un pacchetto di trattamento a parte, molto più vantaggioso rispetto ovviamente ai contractors, ai militari, agli operatori che vengono presi a lavorare per contratto a breve termine. La compagnia Wagner ha una politica che segue gli interessi del governo russo e non di altre compagnie. Cioè, spiego, quando il governo russo si mette d'accordo con un paese africano per portare avanti un progetto dell'interesse comune e c'è una situazione nella quale questo progetto viene messo a rischio perché ci sono le forze locali magari sostenuti dai paesi colonialisti come la Francia, la Gran Bretagna o dalle forze private corrotte che si sono create in quei luoghi che minacciano questo progetto il governo russo manda lì la compagnia Wagner. Per questo motivo la compagnia Wagner non persegue gli interessi delle compagnie private. Loro lavorano per gli interessi del governo russo, soprattutto e unicamente. Mentre le altre compagnie, delle quali adesso vi racconterò, sono compagnie che seguono gli interessi non del governo russo ma delle compagnie private, alcune delle quali però collaborano strettamente con il governo russo governo russo e anche proprietario di una parte delle azioni di queste compagnie. La più grande e più importante di queste compagnie è la Gazprom, la famosa compagnia che gestisce l'energia russa, gestisce il gas. Gazprom ha la sua compagnia privata che fa parte del gruppo di compagnie di sicurezza privata di Gazprom. tra l'altro il loro ufficio si trova proprio a San Pietroburgo, tra l'altro non molto distante dal luogo dove si trova l'ufficio del gruppo, della compagnia Wagner. Gazprom, in differenza della Wagner, non ha così tanti mezzi, non ha così tanti uomini. Loro sono abbastanza limitati nell'utilizzo delle loro strutture perché l'atteggiamento del governo nei loro confronti è l'atteggiamento di un governo nei confronti di una compagnia privata e non di una compagnia privata che in maniera informale fa parte del dirittorato principale dell'informazione, ovvero servizi segreti militari, come nel caso della Wagner. Quindi il governo russo tiene la compagnia privata militare, di sicurezza privata militare della Gazprom un po' a distanza. Nonostante ciò, loro vengono utilizzati in alcuni casi, nei luoghi dove la Gazprom ha degli interessi nel mondo. Ad esempio c'erano i siti in costruzione dove la Gazprom collaborava con il governo di Algeria e questi siti erano protetti dalla compagnia militare della Gazprom. Gente armata, gente intenuta da guerra, in totale collaborazione con il governo algerino, avevano permesso di muoversi con le macchine, avevano permesso di utilizzare le macchine macchine con elevato livello di blindatura, infatti loro usavano non macchine civili con livello di blindatura elevato, loro utilizzavano proprio i blindati militari con le ruote che si usano in guerra. Per utilizzare quel tipo di automobili in un paese, se questo paese non è in guerra, ci serve un particolare permesso del governo di questo paese, perché non si può arrivare con un blindato militare ad esempio in Italia, cioè io posso essere un miliardario con la mia compagnia privata, ma io non posso venire in Italia con mio blindato militare, anche se mi pago trasporto e tutto, ma il governo italiano non mi permetterà mai di girare per le strade del suo paese con un blindato da guerra. Così funziona nel mondo. E questa compagnia invece, compagnia di Gazprom, in Algeria aveva questi permessi da parte del governo algerino, quindi c'era l'interesse del governo algerino di tenere in sicurezza i siti nei quali lavoravano i specialisti, gli ingegneri della Gazprom, la sicurezza di quei siti era affidata a questi militari, questi militari erano intenuti da guerra, si muovevano con le macchine da guerra e questo è uno degli esempi dove questi militari rappresentavano non gli interessi del governo russo, bensì gli interessi della compagnia privata Gazprom, nella quale ovviamente il governo russo è l'azionista e tutto quanto, però questa compagnia fa le sue decisioni in maniera indipendente del governo, almeno così accade formalmente. Poi loro erano presenti anche in alcuni paesi africani dove la Gazprom collaborava con le amministrazioni locali, anche nel Medio Oriente, quindi questi uomini da parecchi anni stanno già svolgendo il loro lavoro, anzi vi dico di più, loro esistono, loro hanno cominciato a lavorare, il loro servizio di sicurezza, quello della Gazprom, è più vecchio della Wagner. Cioè loro sono stati creati molti anni prima di quanto è stata creata Wagner. Di solito in questa agenzia vanno a lavorare le persone provenienti dalle forze speciali, rispetto alla Wagner bisogna dire che la Gazprom ha un sistema di selezione delle persone molto più rigida. Loro prendono all'interno della propria compagnia le persone che non hanno problemi con la legge, non hanno mai avuto nessun tipo di problema con la legge, devono essere bravi specialisti, c'è un sistema di test, di varie prove che devono passare, chiedono le garanzie anche da parte, garanzie caratteristiche da parte dei riparti militari dove queste persone svolgevano il servizio prima. Tutti loro sono ex militari delle forze speciali russe, quindi o Speznas del Ministero degli Interni, quindi i Biretti Rossi, molti vanno lì, persone di Vdv, ovvero truppe avevo trasportate, infatti il loro capo è ex colonnello, comandante di una delle divisioni d'assalto di Vdv, di Ryazan, città dove si trova il quartier generale di forze avveotrasportate russe, marina militare, parecchi arrivano da lì, Beretti Neri li chiamano anche in Russia, e loro sono quasi tutti ex ufficiali. Questa è una cosa che contraddistingue la compagnia Gazprom, loro non prendono con grande volontà la gente che arriva dalla categoria di sotto ufficiali soldati semplici, loro assumono gli ex ufficiali, quindi sono persone di una grande e straordinaria capacità sicuramente tattica, e hanno anche esperienze, perché molti di loro arrivano dalla Seconda Guerra Cecena, dalla Prima Guerra Cecena, i loro vecchi capi sono tutti ex militari che hanno partecipato alla guerra in Afghanistan, uno dei loro fondatori è l'ex fondatore del gruppo Alfa, cioè le forze speciali dei servizi segreti della KGB, e loro hanno una struttura molto piccola, però fondata su principi operativi diversi, sulla strategia operativa diversa. Loro operano intanto con piccoli gruppi, molto attrezzati, molto preparati, se si può dire rispetto alla Wagner sono proprio una punta di diamante. In guerra ucraina, questa agenzia di sicurezza di Gazprom, che non ha un suo nome, si chiama l'agenzia di sicurezza Gazprom, quindi non ha un nome particolare come tipo Wagner, o non lo so, Tchaikovsky, o qualche altro nome. Loro sono molto sotto profilo, stanno sempre lontano dalle telecamere, in effetti ci sono pochissime foto di questa gente, si trovano pochissime loro foto su internet. Quando gli operatori vengono arruolati in questa agenzia, sono costretti di eliminare totalmente tutti i loro profili sui social, li impediscono di avere profili social su Facebook, profili come Vkantaktye, che è un social russo, oppure Adnaklasniki, sempre social. Loro devono eliminare tutto. Su internet vengono ripuliti tutti gli archivi delle loro foto, in effetti non si trovano le loro foto da nessuna parte. Si fa fatica di trovare qualche fotografia di questa gente, anche durante il loro precedente servizio militare, le vengono cancellate tutte le loro scie storiche dall'internet. In guerra in Ucraina, loro sono presenti dal momento di intervento della Federazione russa, cioè dal 24 febbraio, loro sono entrati con due gruppi operativi, loro contingente non è molto grande, perché si parla di ogni gruppo ha la dimensione circa di un battaglione, quindi sono due battaglioni in grande linee, ma comunque anche se loro dicono che sono battaglioni, io poi sono andato a vedere quello che scrivono persone che partecipano alla guerra e tutti dicono che non hanno mai visto queste unità insieme a arrivare numericamente al livello di un battaglione. Dicono che al massimo sono una compagnia, ogni di questi battaglioni, sono due battaglioni, però ogni uno di questi battaglioni in realtà, a livello numerico, è una compagnia, quindi non sono tantissimi. Loro hanno dei nomi che le sono stati dati proprio per l'operazione in Ucraina, uno si chiama Patok e un altro si chiama Fakil. Patok vuol dire la corrente, Fakil vuol dire la torcia, sono nomi in codice per l'utilizzo via radio. Allora, dove hanno partecipato? Loro hanno fatto, sono stati all'inizio nella direzione di Kiev, dove loro hanno lavorato soprattutto nella perlustrazione, loro sono molto bravi a fare le incursioni e le perlustrazioni, sono grandi specialisti in questo. Quindi hanno lavorato nella direzione di Kiev, poi sono stati nella zona di Kharkiv e poi dopo si sono trasferiti nella direzione di Lugansk. Adesso entrambi si trovano a Lugansk, entrambi queste formazioni di questa compagnia di Gazprom. Perché i russi usano queste compagnie? Molto semplici, loro sono grandi specialisti, a mio avviso c'è stata una richiesta da parte del governo russo che ha detto alla Gazprom, guardate, voi avete questi alti specialisti capaci di fare la guerra, li avete presi, arruolati dall'esercito russo, noi comunque come governo abbiamo speso i soldi per preparare questa gente, per trasformarle nei soldati, adesso quando il paese ha bisogno dell'aiuto, dobbiamo vincere questa guerra, a noi questi specialisti servono. Quindi, se voi volete fare una collaborazione con noi, dovete formare due unità, due compagnie, con questi grandi specialisti, le armate a vostre spese, le mandate lì a vostre spese, loro rimangono legati ai contratti, e quindi se gli succede qualcosa, pagate voi, e noi siamo fuori dalla questione, noi non dobbiamo più mantenere le loro famiglie, non dobbiamo più dare a nessuno la pensione, e i pagamenti per la morte o per la ferita, quindi tutto lo fate voi, e questo sarà il vostro contributo al nostro impegno bellico in Ucraina. A mio avviso, i capi della Gazprom hanno detto sì compagno Putin, hanno formato in 448 questi militari, tanto loro sono già formati, sono già armati, hanno tutto la struttura, perché da anni utilizzano questi metodi in Africa e in altri paesi, loro fanno la sicurezza militare, quindi sono militari in grande linea. Secondo me semplicemente hanno fatto un briefing, hanno detto ragazzi dovete andare in Ucraina, vediamo i contatti con il comando russo, collaborate con loro, siete subordinati a loro, ogni settimana scriveteci un rapporto, chi è ferito, chi è ucciso, raccontateci cosa vi manca e speriamo che questa disavventura finisca presto. Quindi in grande linea a mio avviso è andato così. Loro sono andati in Ucraina, quindi stanno lì, partecipano alla guerra, ci sono pochissime foto di loro, non si fanno fotografare, non si fanno vedere, a loro non piace essere messi, non sono così protagonisti come Wagner ad esempio, non sono le prime donne, fanno il loro lavoro, sono grandi specialisti, sottolineo, però sono sempre un po' dietro le quinte. Di recente cosa è successo? Uno di loro operatori è rimasto ucciso, questa cosa è finita in una situazione, diciamo, in un'indagine giornalistica russa perché i russi stessi non hanno capito chi era questo qua. Tempo che sono arrivati i suoi compagni che l'hanno portato via, si è creata una domanda ma questi chi sono? Questi appaiono da nessuna parte, cioè dal nulla, portano via un cadavere, non hanno segni di riconoscimento, buh, e alla fine è uscita fuori questa storia e alla fine ha dovuto fare una dichiarazione ufficiale anche i rappresentanti di Gazprom dicendo ma sì, ma loro in realtà sono nostri, è una nostra compagnia di sicurezza privata, militare, ma sono lì per dare appoggio, insomma hanno molto minimizzato la partecipazione di queste persone alla guerra, a mio avviso per non danneggiare le relazioni con il direttorato principale delle informazioni ovvero con servizi segreti militari e con i loro rappresentanti che sono Wagner e Prigogion e ovviamente quando è uscita fuori questa storia Wagner e Prigogion hanno sfruttato ampiamente questa situazione e hanno detto subito oh guardate qua ci sono altre compagnie che stanno entrando e allora cosa vogliamo fare e noi qua che combattiamo e noi abbiamo conquistato Bakhmut e noi abbiamo fatto un mazzo così a un sacco di brigate ucraine che sono sopportate dalla Nato dei mercenari invece ci sono questi due compagnie che ci fanno concorrenza e così via quindi Prigogion ha sfruttato questa situazione per fare l'ennesima polemica a mio avviso per dare anche un messaggio a quelli di Gasprom guardate che qua diciamo il ritmo alla musica la diamo noi se volete ballare sotto il nostro ritmo state buoni così come siete se invece non state buoni facciamo un bordello facciamo un casino e vi caccieremo fuori da lì quindi si tratta cari amici sempre di soliti giochi di potere all'interno del sistema russo perché il sistema russo è complesso composto da diverse realtà bisogna conoscerle bene tutte prima di aprire la bocca in effetti io qualche volta ho sentito alcuni personaggi anche qua nostri vari esperti che stando sul divano della mamma pontificano su cosa succede in guerra senza neanche minimamente essere stati mai vicini a un conflitto bellico ma soprattutto senza conoscere quelli che sono gli equilibri russi e ucraini per parlare bisogna conoscere bene queste cose quindi vi invito di approfondire con attenzione tra l'altro quella notizia che è stata data da Financial Times è stato un po' come dire hanno un po' marcato hanno un po' esagerato nelle ovviamente sono britannici sono anglosassoni devono in qualche maniera drammatizzare anche la situazione quindi hanno subito parlato dei mercenari di Putin che si litigano tra di loro che c'è tutta una rivalità che quasi domani cominciano a spararsi e ammazzarsi che se finisce la guerra chissà cosa faranno questi discorsi amici se finisce la guerra vi dico cosa faranno ritorneranno alle loro case riposeranno e poi li daranno un altro impegno e andranno in Africa in Medio Oriente di nuovo in India o in altro paese dove dovranno svolgere il loro lavoro cioè proteggere gli interessi delle agenzie per quali lavorano perché questi non sono rivoluzionari qua c'è sempre un discorso degli anglosassoni che sognano una rivoluzione in Russia contro Putin e che per qualche motivo pensano che lo devono fare questi mercenari non lo so perché la logica non c'è in tutto questo appunto proprio perché sono mercenari non faranno mai nessuna azione politica perché loro sono pagati per fare la guerra per gli interessi della Russia o per gli interessi dell'agenzia privata che fa parte comunque di un potere legato al governo russo quindi non hanno non hanno alcun interesse di spodestare Putin per questo motivo il ragionamento dell'articolo di Financial Times degli articoli perché sono stati tre articoli diversi soprattutto nell'ultimo c'è questo ragionamento queste domande dove il giornalista dice ma sì ma questi chissà cosa faranno quando la guerra finirà dove andranno chissà se saranno contenti dell'esito e così via ma loro non devono essere contenti di niente sono mercenari non fanno le domande le dicono guarda vai lì al punto A lo devi difendere oppure lo devi conquistare fine loro svolgono il loro lavoro se riescono riescono se non riescono vengono uccisi portati a casa e la loro famiglia riceve un sacco di soldi questa è la realtà dei fatti quindi carissimi se volete approfondire vi invito a visitare il mio telegram io lì ho scritto qualcosa e al riguardo vi ringrazio grazie per essere stati qui con me vi invito a commentare i miei video condividere con i vostri contatti vi invito di iscrivervi al mio canale youtube vi invito di approfondire il mio nuovo libro questo qua dietro la mia schiena la guerra e l'odio adesso è disponibile in preordine lo potete trovare il link nella descrizione di questo video è l'ultimo libro della trilogia dedicata alla guerra ucraina e che parla della storia dell'odio che è diviso l'Ucraina in due parti in guerra tra loro vi ringrazio per essere stati qui con me vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene